Le stampanti 3D stanno sempre più prendendo piede in ambito industriale. Vengono usate soprattutto per stampare prototipi di futuri prodotti a costi molto bassi rispetto ai metodi tradizionali. Permettono dunque di testare e sperimentare con maggiore facilità le caratteristiche dei modelli di preproduzione, visto che quelli realizzati con questa tecnica sono molto simili al prodotto finito. Oltre alla grande industria, da questa innovazione tecnologica possono trarne beneficio anche realtà piccole come la nostra. Queste stampanti possono essere infatti usate quasi in ogni campo e da chiunque. È stato detto durante un incontro alla Camera di Commercio di Sernia, organizzato proprio per far conoscere le potenzialità di questo strumento per la piccola e media impresa. Queste macchine possono tornare utili in realtà a chiunque, a chi si occupa di modellismo, di bigiotteria, di gioielli. Di apparati medicali, protesi dentarie, attualmente sta andando per la maggiore proprio questo lato qua. Le nuove tecnologie possono aiutare anche nel settore dell'artigianato, dove spesso e volentieri la realizzazione di un prototipo comporta costi notevoli. Oggi, grazie a sempre più rapidi progressi della ricerca, facilitati anche dalla scadenza di alcuni brevetti, con una cifra che si aggira intorno ai 500 euro, è possibile acquistare una stampante in 3D in grado di assicurare risultati discreti. I piccoli artigiani possono utilizzare queste macchine, per esempio, per creare dei prototipi a basso costo. Sappiamo che creare un prototipo può costare anche diverse migliaia di euro. Con una macchina come questa, che si acquista a 500 euro, quindi una cifra relativamente bassa, è possibile farsi il proprio prototipo. Non sono macchine per la diffusione di massa. Con questo tipo di macchine, ovviamente, non è possibile stampare, non so, mille pezzi. Potrebbe trovare utilizzo nel mercato attuale, anche qui a Esernia, in Molise, per i gioiellieri, che possono stampare gioielli, magari, non so, rivestirli di argento, di oro, creare cose anche molto complicate e articolate. Grazie a tutti.